In tutto sono state nove persone che sono ricorse alla cura del nostro pronto soccorso. Una è deceduta, la signora sui 50 anni, è deceduta abbastanza presto per un trauma addominale importante con emorragia interna e quindi è morta nello spazio di poco tempo. Devo dire la verità, sono particolarmente provati da quello che è successo, particolarmente quelli che stavano sulle auto, perché quelli che stavano sul pullman, chissà in rianivazione, non abbiamo avuto modo di poter rilevare, quelli che stavano sulle macchine non si sono accorti di niente, sanno il fatto che sono stati investiti da questo pullman impazzito. Grazie.